Una perdita improvvisa scuote il mondo dello spettacolo italiano. Oggi parliamo di un addio che ha lasciato il segno. Avete mai sentito il peso della perdita di un amico caro? Come vi siete sentiti? Vanessa Incontrada ha annunciato la perdita di Gipo Brammerini, un amico speciale e una presenza costante nella sua vita. Con un post commovente su Instagram, Vanessa ha condiviso una foto, ricordo con Gipo, accompagnata da parole che toccano il cuore. Sei e sarai sempre nel mio cuore, amico mio grande. Riposa in pace. Ti voglio un bene infinito, scrive Vanessa. Raccontaci nei commenti come hai affrontato il lutto di un amico caro. La tua storia potrebbe aiutare qualcuno che sta passando un momento difficile. Gipo, noto per la sua doppia vita come autista di giorno e gestore di un noto pub di sera, era amato da molti. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un like se il video ti ha toccato e attivare le notifiche per non perderti le ultime notizie. La sua morte improvvisa a soli 48 anni ha lasciato un vuoto incommensurabile. Piangono la moglie, la madre, i fratelli e gli amici di sempre, incluso Simone Cristicchi. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Grazie per averci seguito.